Si sente l'ambulanza? Ah si? Giusto, vai vai! Salve a tutti! Siamo qui nel secondo canale di Frapprog per premiare il vincitore del concorso di Paper Man che si aggiudicherà direttamente a casa propria una stampa del suddetto disegno che è questa che io tratto con estrema delicatezza. Bene, qui con me abbiamo Addio Tubo Crudele che ci accompagnerà in questa estrazione per far sì che sia tutto truccato al meglio. Dunque, vuoi dire qualcosa Addio Tubo? No, guarda, il tuo entusiasmo mi scalda il cuore. Perfetto, dunque siccome io ho tentato di stampare i commenti che ho selezionato ma non ci sono riuscita vi spiego esattamente come si è svolta la mia selezione e vi spiegherò perché ho in mano questi foglietti. Dunque, qui sullo schermo ci stanno i commenti selezionati per essere i potenziali vincitori del disegno. Come ho scelto questi commenti? Siccome non ero molto sicura su come scegliere e secondo quale criterio, dato che c'erano molti commenti belli che mi sono piaciuti veramente tanto, ho deciso di fare uno slancio di generosità e prendere tutti coloro che avevano proposto di regalare il disegno a qualcun altro nel caso lo avessero vinto. Quindi questi qua sono i commenti selezionati e adesso io ho scritto su questi foglietti i nomi e li leggerò uno ad uno e dopodiché li inserirò in questo cappello. Nel frattempo Addio Tubo Crudele farà il menestrello e ci fischietterà una canzone. Dunque, la prima è Roberta Mavero, o Mavero, non lo so, eccola qua, non so se si vede, forse adesso si vede, e va nel cappello. Ah no, la devo piegare. E va nel cappello. Il secondo è Addio Tubo Crudele e pure lui, proponendo di regalare il disegno a Giacomo Citro, purtroppo è finito nella lista dei potenziali vincitori. Quindi, tu sei pure raccomandato. Per Giacomo, questo è altro. Continua. Dopodiché, Silvi Manga è la terza che ha lasciato il commento. Poi non so se da questo video si riusciranno anche a leggere i commenti, però spero di sì, io confido nell'alta qualità della mia macchina fotografica. Terzo, no scusa, quarto, no, quinto, so contare, commento di Archangel93, che pieghiamo e mettiamo nel cappello. Purtroppo soltanto uno di questi si aggiudicherà la stampa, quindi ragazzi, rimanete collegati. Dopo questo stacco di pubblicità, vai Addio Tubo. Volete comprare il nuovo Mangino e pregatti sponsorizzato da Addio Tubo Crudele? È molto buono, sa di gatto. Dunque, il sesto commento è di Linkin Manga Uchiha, Linkin Mark Uchiha, pieghiamo e mettiamo nel cappello. Ti è uscito molto toscano, se posso, eh? Molto toscano. Uchiha? Diego della Tommasa è il settimo. Chissà se io sto tenendo il conto o sto dicendo numeri a caso. Allora, facciamo così. Master Gekko è il trentasettesimo. E perché mi avanza un coso? Che casino hai fatto? No, aspetta. Joker's Agas non l'avevo messo. Joker's Agas era il quarto. Ecco perché non mi tornava il conto. Professionalità. E poi, per ultimo, c'è Chiarellic. Ma poi io li sto mostrando al microfono, non si vedranno neanche. Se le fai finta, va bene. Allora, sto mischiando, ragazzi. Addio, per favore, aiutami con la tua forza mentale. Io faccio mettere uno slow motion. Uno slow motion di io che mischio? Un fogliettino che sale così, no? Ti vedi di non ronvesciare tutto che poi devi rifare qua. No, 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 no. Non dobbiamo rifare assolutamente niente. Assolutamente niente. Allora. Vuoi... Oh mio Dio! C'è una chiamata in arrivo. Allora. Come faccio adesso? Ignoriamo la chiamata. Ignoriamola. Vuoi estrarre te il nome? Addio. Va bene. Sì, devi sincronizzarti. Ah, scusa. Ah, vabbè, vabbè. Giusto, giusto, giusto. No, perché stavo aspettando che tu estraessi il nome. Ah, sì, aspetta, aspetta. So che ho qualche papà. Vai. Ok. Per essere sicuri che non sto guardando. Sto estraendo, sto estraendo. Ecco qua il nome. E adesso vi dirò qual è il nome. Io non l'ho letto. Lo facciamo leggere ad addio tubo. Chissà come farà a leggerlo. È al contrario, non riesco a leggere. Ok. Vince... Sì, tiri la ferma, però. Link in Mar... Quello lì che non saprei pronunciare in toscano. Ah, Uccia. Allora, vince Link in Mar Uccia. Quindi, bene, tu sei il vincitore di questo contest e mi raccomando, entro, non lo so, contattami tu. Tanto 10 minuti? Tipo, entro 5 minuti, il tempo di pubblicare questo video, insomma, dovrai contattarmi... Cosa? No, no, ma noi continuiamo, non ce ne frega niente di Skype che suona. Allora, Link in Mar Uccia, mi raccomando, contattami entro una settimana, non so dove, dove ti pare, e ti, dandomi i tuoi dati, insomma, magari salutando e facendo le cose che si fanno quando ci si scrive per la prima volta. E io ti spedirò a casa il disegno di Paper Man che facciamo vedere è questo. Nel frattempo io lo piegherò e lo distruggerò in modo che poi ti arrivi danneggiato. Una cosa che ci tengo a chiedere e vi chiedo per favore è che, per favore, adesso non è che nel prossimo speed drawing tutti quanti dicono che regaleranno il disegno perché così lo vogliono vincere loro, d'accordo? Questo qui è stato una volta, nel prossimo sceglierò i commenti secondo un criterio diverso. Quindi, mi raccomando, non mancate perché il prossimo disegno, perché mi sta continuando a chiamare su Skype, il prossimo disegno arriverà in premio tra pochissimo e quindi, ragazzi, non lo so, io, c'è qualcosa che vuoi dire? Addio. No, io penso che comunque sarebbe meritato un premio più Giacomo rispetto a questo Uccia, però va bene così. Ma in realtà anche secondo me. Però non importa, ragazzi, rimanete connessi per vincere anche il prossimo disegno. Da Frafrog è tutto, da Diotubo crudele penso che sia tutto, è tutto? È tutto. Da Skype che suona perché sta chiamando Richard Htt è tutto pure in questo caso. Bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, ciao, comodo!